In queste ore, mentre continuano gli attacchi scomposti, personali, volgari, che tirano in mezzo la famiglia e che ricollegano questa decisione presa di rompere un accordo contraddetto dal PD come una questione caratteriale e umorale, nessuno si è posto una domanda. Cioè, come mai abbiamo deciso di rinunciare al 30% di seggi sicuri? 30% vuol dire essere in grado di eleggere quasi tutto il gruppo dirigente di azione. E se uno rinuncia alla convenienza, non potete pensare per un secondo che ci sia l'idealità. L'idealità può essere sbagliata, può essere giusta, può condurre verso qualcosa di positivo o di negativo, ma forse l'idealità va sempre rispettata. Perché se no noi chiediamo sempre ai politici di essere disinteressati, di seguire le loro idee, di essere coerenti. E poi quando lo fanno, diciamo che sono umorali. Ecco, noi non facendo quell'accordo abbiamo rinunciato a un sacco di posti sicuri. Questo è un dato di fatto. Il resto sono chiacchiere.